Musica Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 5 del Focus che Fano TV Dedica ogni settimana allo sport del territorio Vetrina al calcio all'Alma Juventus Fano, purtroppo reduce dalla seconda sconfitta consecutiva in trasferta Ne parleremo, ma tratteremo anche altri temi Con Ettore Padovani, attaccante dell'Alma Juventus Fano Buonasera e benvenuto Buonasera, grazie E Pierpaolo Storoni, team manager dell'Alma Juventus Fano Buonasera Partiamo proprio dalla sconfitta patita domenica scorsa sul campo del Roma City Che è quello di Riano all'interno di un complesso all'avanguardia come Riano Athletic Center Uno scenario diciamo non così consueto per il campionato di Serie D Anche un fondo apparentemente tra i più all'altezza della categoria Una sconfitta Padovani maturata al termine di una partita che sembrava incanalata sullo 0-0 Però quando è così basta che succeda qualcosa di imprevisto E la bilancia può pendere, l'ago della bilancia può pendere da una parte e dall'altra L'episodio sarebbe potuto accadere al Fano in senso favorevole l'occasione capitata a Broso Pochi minuti dopo l'episodio invece ha riso a Roma City È andata proprio così? Sì è andata così, una partita sostanzialmente combattuta a centrocampo Poche occasioni da una parte e dall'altra E poi sì, a parte una parata di Bizzini il primo tempo Poi il secondo tempo eravamo saliti un po' più noi in cattedra Se Capitano fa gol lì ovviamente si parla di un'altra partita Magari tre punti invece abbiamo fallito l'occasione Poi c'è stato l'episodio del gol loro e la partita purtroppo si è messa male Però fondamentalmente era una partita da un pareggio Comunque le squadre in questo momento del campionato pensano tutte magari a non perdere la partita E invece ci ha detto male Poi il secondo gol ha tempo scaduto che comunque non avrebbe cambiato nulla Si è soliti dire che il girone di ritorno è sempre un altro campionato Ma non si tratta di un luogo comune perché le squadre cambiano volto È il caso del Roma City e assumono un'altra dimensione, un'altra statura nella seconda parte della stagione Sì perché tutte le squadre con il mercato tendono a rinforzarsi Quindi è molto più duro E quindi sì, ogni partita viene magari sbloccata da un episodio Comunque non si vedono mai partite grandi vittorie Per un passivo molto... Quindi è un campionato già livellato di suo E in questa seconda parte secondo me sarà ancora più dura fare risultato Non si può dire che l'Alma abbia sfigurato contro il Roma City Nei che abbia sofferto particolarmente un avversario Che peraltro almeno in questa fase della stagione sta facendo più punti di tutti Quarta vittoria nelle ultime cinque partite Un solo pareggio a Termoli dove peraltro il Roma City è stato raggiunto alla fine Sì è una squadra in salute, in forma, comunque ha cambiato tanto Giocano in un campo, in uno stadio sicuramente che gli permette questa palla a terra Hanno un buon gioco È una squadra forte, perché si può dire Però noi non abbiamo rischiato praticamente nulla È stata una partita tenuta bene Però ecco come hai detto tu poi nel calcio l'episodio Magari facciamo col noi, si parla di tre punti E purtroppo è arrivata questa sconfitta Però loro sono un'ottima squadra E abbiamo visto proprio adesso Capitano Broso fallere un'opportunità importante Il primo a disperarsi Tu sei attaccante Sai quali sensazioni si provano in quel momento lì? Purtroppo capita anche questo Nove volte su dieci li fai gol Ecco lui è andato a impattare questa palla convinto La palla purtroppo si è alzata Dopo il gol sbagliato Ecco abbiamo subito gol Magari non siamo stati bravi a riprenderla Però nel calcio ci sta anche questo Loro hanno fatto una partita buona Mi pare che su questa azione sia determinante la deviazione sul cross Perché allunga la traiettoria del pallone Favorisce poi Rasi, autore del gol Che rispetto a Serges che l'aveva in consegna in quel momento Ha fatto valere anche una superiore stazza Eh sì sì C'è stata sì la deviazione che l'ha allungata un po' Però ecco E quindi è maturato questo 1-0 A quel punto qualcuno ha fatto notare Non c'è stata la reazione Che ci si aspettava dal Fano a questo svantaggio È stato così oppure sono state le circostanze della partita Ad impedirvi di mettere sotto in maniera evidente Roma City E creare delle situazioni per il pari Beh la partita si era incalanata così Noi fino al gol loro penso che abbiamo fatto meglio Stavamo spingendo di più Appunto l'occasione sbagliata Poi dopo il gol secondo me siamo stati un po' frettolosi Siamo andati un po' Non in bambola Però cercavamo subito di riaprirla Ma in maniera confusionaria Solo quello Non abbiamo avuto più occasioni però Andiamo a dare un'occhiata Dopo aver seguito anche le immagini del raddoppio Arrivato appunto alla fine Con la squadra sbilanciata in avanti Ai risultati di questa ventitresima giornata Il Pineto in capo 1-0-0 casalingo con la San Meredettese Che nella circostanza dimostra di avere ancora la pelle dura Vigor Senigallia che non ne approfitta Perché a sua volta è fermata dal Tolentino ultimo in classifica Ma abbiamo visto un Tolentino al Mancini ancora molto vivo Dopodiché per quel che riguarda le zone alte della classifica Il ritorno al successo del Trastevere Mentre per quello che riguarda la cuda della graduatoria L'1-1 della Vastese contro il Termoli Il risultato che il Fano deve tenere in considerazione Ma soprattutto la partita che ha giocato la Vastese Perché la Vastese sarà il prossimo avversario della squadra Granata Sabato al Mancini in anticipo Ed è una Vastese che ha appena cambiato allenatore E l'allenatore si chiama Giovanni Cornachini Che a Fano conosciamo abbastanza bene Che idea ti sei già fatto di questa prossima partita? È una partita dura Ecco come appunto c'è il mister Cornachini Che l'ho visto parecchie volte Quindi qui a Fano ci conosce Quindi ci ha studiati bene Però come tutte le partite sarà una partita difficile Però noi dobbiamo assolutamente fare risultato poi in casa nostra Quindi sicuramente sarà una partita difficile Andiamo a dare un'occhiata anche alla classifica Per verificare appunto che le lunghezze di margine della capolista A Pineto rispetto alla più immediata inseguitrice La Viro Senigale sono rimaste invariate Tolentino sempre ultimo in classifica Con un passivo importante da rimontare Tolentino che è stata la tua ultima squadra Prima dell'esperienza in Granata Come vivi questa situazione di disagio dei tuoi ex compagni? Perché molti sono stati i tuoi ex compagni Sì, io a Tolentino sono stato tre anni La conosco molto bene Conosco tutte le persone lì E mi dispiace un po' per la situazione di classifica Erano partiti bene Sono una buona squadra Ovviamente poi nel calcio non si può mai dire Secondo me possono ancora farcela Comunque non è una squadra morta È una squadra viva da quello che ho visto E sarei molto felice se riuscissero a superare questo momento È una classifica secondo te che dice il vero? Quella che stiamo vedendo No, no però Chi può dirlo Qualche risultato in più Qualche risultato in meno Però vedi anche la San Benedettese Che è una squadra forte Che si trova mischiata lì sotto Alle prese però con vicissitudini Di cui si parla quotidianamente Certo, però parliamo di una squadra Costruita con nomi importanti Giocatori importanti Lo stesso è la Vastese, il Montegiorgio È comunque sempre stata una squadra Che ha fatto bene in Serie D Anche se negli ultimi anni Però è una squadra che secondo me Si tirerà fuori Comunque è un campionato Importante Dove può succedere ancora di tutto Il calcio è fatto di paradossi Il Pineto che sta dominando la stagione Anche se ultimamente è rallentato È la squadra che avete battuto Due volte su due Sì, noi siamo la bestia nera del Pineto Però è una squadra forte Non sta magari facendo bene Benissimo come va all'inizio Però sta lì Merita di esserci secondo me E l'unica che ecco sta andando bene Potrebbe dargli un po' di fastidio È la Vicorsa in Italia Che sta facendo un campionato pazzesco È una classifica che vi soddisfa la vostra? No No, perché abbiamo avuto quel periodo di calo Che ci ha fatto rallentare un po' la nostra marcia Però diciamo che potevamo avere molti più Qualche punticino in più dai Non molti Qualche punticino in più Comunque ci manca sempre quello step Per stare lì nella zona alta della classifica E speriamo ecco di fare i tre punti subito sabato Un periodo buio che molti hanno ricondotto al tuo infortunio In effetti subito dopo il tuo infortunio La squadra si è comportata molto bene Ha continuato a collezionare risultati Poi è iniziata la parentesi negativa Quanto, anche se credo che la tua risposta non sia così semplice Può aver pesato il tuo infortunio Al di là della tua importanza nello scacchiere tattico Le ripercussioni che su questo scacchiere ha avuto Per la difficoltà in un campionato di Serie D In cui bisogna anche schierare 4 under Si sono appunto registrate nel momento in cui Mosconi ha dovuto rimettere mano a questo pacchetto Ma, sì, per il modulo del mister Diciamo che io ho come caratteristiche sono Diciamo Ti ci trovi bene Mi ci trovo bene Comunque sono già amalgamato, no? Come si dice Sai cosa vuole il mister Che sei in grado di rispondere alle sue esigenze Però non è stato solo il mio infortunio Perché c'è stato il mio Quello di Capezzani Quello del Capitano Quindi ci siamo ritrovati da Che eravamo partiti benissimo Senza parecchi giocatori Non solo io E lì però ecco La squadra ha continuato a fare bene Poi dopo ovviamente Nel calcio ci sta Ti mancano 4-5 giocatori importanti C'è stato un piccolo diciamo calo Segnaliamo sempre anche il caso Mancini Perché è venuto meno il difensore 2005 E non c'erano altri difensori under disponibili Vero, vero anche questo Ci è venuto a mancare Mancini Quindi un paio di situazioni Che ci hanno un po' destabilizzato Poi abbiamo ripreso il nostro cammino E sono arrivati giocatori importanti Quindi diciamo che Non ti so dire come il mio infortunio Possa aver Influito Però sicuramente ecco Io volevo comunque esserci Quindi magari una mano in più Una soluzione in più Però adesso la squadra c'è È più forte È completa in ogni reparto E sta a noi ecco Continuare a fare bene E raggiungere il prima possibile La salvezza E poi vedere di fare magari Qualcosina in più Ma quando Moscone È accaduto più di una volta Ti definisci un Ibrahimovic Per questa categoria Ti pesa un po' O ti gratifica Ma mi gratifica Perché comunque La stima di un allenatore È sempre gratificante Lui lo dice in maniera scherzosa Però ecco Magari come caratteristiche Per lui Nei dovuti rapporti Sono diciamo Un giocatore importante Magari soprattutto Per il modulo suo Per quello che vuole lui In campo Dagli attaccanti Tutti i protagonisti Di questo campionato Storoni Hanno parlato di un gruppo Molto coeso Di una squadra Che anche nei momenti Di difficoltà Non ha mai perso Questa unità di intenti E così anche dall'interno Assolutamente sì Quest'anno Per quello che io so Dell'anno scorso Perché non ero a Fano Ma rispetto all'anno scorso Veramente quest'anno Il gruppo è molto coeso Sono tutti veramente ragazzi Bravi Professionisti Seri E non c'è nulla da dire Su nessuno Veramente È un bel gruppo questo Storoni di ritorno a Fano Dopo tanti anni Anche se ovviamente Ha continuato a vivere a Fano Cosa ti ha spinto A tornare appunto A prestare servizio All'interno dell'Alma Juventus Fano E come ti sei trovato Sia all'interno della squadra Ovviamente Che con la struttura societaria Dopo l'esperienza di Rimini Che è stata positivissima Abbiamo avuto il campionato E ho avuto la possibilità Di fare una chiacchierata Con il presidente Mario Russo E non ho pensato Neanche un attimo A dire ok Perché Anzitutto il cuore Mi ha portato a Fano E Fano Per me È Fano Questo stemma Ce l'ho anche dentro Non ce l'ho solo Sulla cravatta Poi dopo Il presidente Mi ha parlato Anche Di alcuni personaggi Che sarebbero arrivati Vedi Il direttore sportivo Rino Danielli Che è un personaggio Veramente Di notevole esperienza Conoscitore Di queste categorie Serie D Serie C Non ho avuto neanche Un attimo di dubbio A venire a Fano E mi trovo veramente bene Con tutto lo staff tecnico Con il mister Con il direttore Come dicevo prima Con tutti i ragazzi Per cui Eccezionale Il ruolo del team manager Comporta quotidianamente Anche Il dover affrontare La difficoltà Di reperire Campi Sui quali Svolgere un'attività adeguata E sul tema Dell'impiantistica E dei campi Da gioco A disposizione dell'Arma Juventus Fano È tornata molto duramente La società Granata Nei giorni scorsi Esiste questa difficoltà E è oggettiva Quanto si ripercuote Sul quotidiano Di questa squadra Storoni Non mi addentro Nei discorsi burocratici Come ha fatto il nostro presidente Perché è compito suo Però è vero Che ci sono Dei grossi problemi Per quello che riguarda I campi Soprattutto D'allenamento Abbiamo due campi La trave E i campi dei militari Che sono in uno stato Onestamente Quasi pietoso Basta che piove È un disastro E per cui Oltretutto Questo volevo dire Prima quando parlava Ettore Padovani Sì è vero Che stiamo perdendo Delle partite È successo qualcosa Ma facciamo veramente Anche molta fatica Ad allenarci Perché Non c'è un campo Serio Dove ci possiamo allenare Un campo Che possa dire Questo è un campo Dove ci si può allenare Servirebbe senza meno Un campo in sintetico Però Dove lo andiamo a reperire Questo non lo so Padovani è impegnato Chiaramente in un percorso Diverso di riabilitazione Anzitutto Come stanno procedendo Le cose Mi pare che tu sia In vantaggio Rispetto alla tabella di marcia Sì sì Diciamo che Sta procedendo tutto bene Non ho riscontrato Nessun tipo di problema Ho iniziato a correre E Palestra Piscina Diciamo che Con i tempi Ci siamo Non bisogna ne affrettare Però ecco Speriamo di rientrare Il prima possibile Ti sei posto Una scadenza Io spero Almeno per le ultime Due partite di campionato Spero Di esserci E per quel che riguarda Appunto i campi Quanto una squadra Risente Dell'impossibilità Di lavorare Durante la settimana Su un terreno all'altezza Beh tanto Perché La domenica È il frutto Del lavoro della settimana E se non riesci Durante la settimana Ad allenarti bene Vuoi non vuoi Questo lo riporti Anche Nella domenica Quindi Direi che è fondamentale La tua esperienza a Fano Purtroppo Circoscritta Alle prime partite Dal punto di vista agonistico Però hai continuato A vivere l'ambiente Hai continuato A vivere la città Hai continuato A vivere il rapporto Con i tifosi Che valutazione Ne dai Anche in rapporto Alle tue esperienze passate Beh io A Fano Sono stato accolto Dal ritiro Benissimo Da tifosi È una piazza importante E È una piazza Che va accesa Secondo me Con i risultati Perché Da quello che ho capito E quello che vivo Comunque Fano È una piazza Abituata a categorie Più importanti Quindi ecco Nel campionato di Serie D Dopo gli ultimi anni È una piazza Che vuole Deve ritrovare entusiasmo E questo Noi possiamo farlo Con i risultati Però io Mi sono trovato benissimo Continuo a stare a Fano A stare vicino Alla squadra Perché Fa parte di me Del mio lavoro E ci tengo Anche a dare il mio Apporto Supporto alla squadra In questo modo Standogli vicino E cercando Ecco appunto Di lavorare Per cercare di rientrare prima A proposito Di alimentare la passione L'ingaggio di Mosconi Non era solo ovviamente Legato Alla necessità Di valorizzare Soprattutto il patrimonio Giovanile Ma anche al fatto Che è un allenatore Che tocca le corde Che piacciono ai tifosi Tu lo conosci molto bene Che tipo è Mosconi Sì Il mister È un allenatore Che punta tutto Sulla Sull'aggressività Sul temperamento Sul cuore Soprattutto E infatti Come dicevi prima Lui punta tanto sul gruppo Vuole un gruppo unito E noi Da subito Abbiamo lavorato bene Sul gruppo Ci siamo tutti Tutti quanti uniti Da subito C'è un legame forte E questo penso che A livello Di spogliatoio E a livello Anche di serie D È molto importante Avere un gruppo unito Quindi lui è bravo A suonare la carica È un mister È un mister che sa motivare In panchina È difficile gestirlo Toroni Questo Posconi Sì Direi proprio di sì È abbastanza difficile Però Alla fine ci troviamo È un uomo Che ha un cuore Enorme E devo dire che mi trovo Per gli impianti di allenamento Ne parlavamo prima Ne parlavamo prima Nello spogliatoio Ripartire subito E cercare di portare a casa i tre punti Bene Salutiamo e ringraziamo Ettore Padovani Attaccante dell'Alma Juventus Fano E Pierpaolo Storoni Team Manager Del Club Granata Grazie a voi Noi torniamo fra qualche attimo Restiamo al calcio Ma trasferendoci al campionato di eccellenza Dove continua a distinguersi come realtà consolidata E importante il Fossombrone E del Fossombrone Del campionato di eccellenza Parleremo con Giovanni Santini Vice allenatore del Fossombrone Buonasera e benvenuto Buonasera Grazie dell'invito E con Tommaso Battisti Che del Fossombrone È attaccante È attaccante di peso Perché vedremo che il suo rollino di marcia È sicuramente Di quelli interessanti Fossombrone che è reduce Dal secondo 0-0 Casalingo Del secondo 0-0 consecutivo Casalingo in questo caso Con l'Azzurra Colli Altra squadra che si sta Distinguendo nel ruolo di protagonista Uno 0-0 che però diversamente Da quello di Urbino Maturato in circostanze anche particolari Siete rimasti in inferiorità numerica Ha rappresentato Fonte di rammarico Per voi Perché le occasioni ci sono state Per vincere la partita Purtroppo non siete riusciti A surtarle adeguatamente È così Santini? Sì Sì Purtroppo Non siamo riusciti a concretizzare Quello che di buono Abbiamo fatto Per tutto l'arco Della partita Aggiungerei anche Che anche a Urbino Usciamo con un po' di rammarico Perché nonostante Siamo rimasti in dieci Dopo mezz'ora Anche lì Abbiamo condotto la partita E abbiamo cercato anche Di vincerla Però tornando A domenica Un po' Sì Il rammarico c'è Stiamo nel frattempo Vedendo le immagini Della gara Che avete giocato Per domenica in casa Il rammarico c'è Ma comunque sia Rimane la prestazione Che per noi allenatori È importante Ci permette poi Di lavorare anche Bene in settimana Quando una squadra Crea opportunità da rete Appunto Lo staff tecnico È contento Magari Meno contenti Sono gli attaccanti Quando queste opportunità da rete Non vengono capitalizzate Battisti Ne ha avuto almeno Un paio importanti Stavolta non è andata bene Sì Stavolta Non è andata Come speravamo Diciamo Abbiamo fatto il massimo Io E gli altri due attaccanti Che giocavano Come dall'inizio della partita Ma anche quelli Che sono subentrati Come ho detto Abbiamo fatto il massimo Peccato La palla non è entrata E Entrerà la prossima Non eravate di fronte L'ultima arrivata Perché la Zurracolli Fino a prova contraria È la seconda forza Del campionato Che avversario avete trovato? Ma la Zurracolli È una buonissima squadra Conosco Alcuni giocatori Soprattutto Il difensore Allenatore Che ho avuto modo Di conoscere Anche negli anni passati Sapevo che sarebbe stata Una partita Tosta E Diciamo La partita che ci aspettavamo Quindi Siamo andati lì Molto guerriti Il mister ci aveva preparato Giove ci aveva preparato E Niente Una squadra Molto forte Che secondo me Lotterà In quelle posizioni Fino alla fine Del campionato Un Fossombrone I cui numeri Raccontano tanto Nel senso che è una squadra Che perde pochissimo Appena due sconfitte Una con la capolista Atletico Ascoli Malla andata A ritorno vi siete rifatti E l'altra con la Iesina Una squadra Che pareggia forse un po' troppo Per riuscire a fare Quel salto di qualità Definitivo Che ha una difesa Ermetica La meno battuta Del girone E che in attacco Rispetto sempre alle primissime Magari Ha qualcosa da recuperare È un ritratto Che vi calza Santini? Ma direi che Diciamo Non voglio Far sì che questa cosa Sia solo Da un punto di vista numerico Perché Tutta la squadra Secondo me Sta lavorando bene Sia in fase difensiva Che in fase offensiva In fase difensiva Sì I numeri dicono Che magari ci manca qualcosa Magari ci manca qualcosa in più Sotto il profilo della cattiveria Della convinzione di far gol Però non è un problema Di attaccanti Come non è un merito Per la difesa In questo caso Gli allenatori parlano sempre di fase Fase difensiva Fase offensiva Fase di possesso Fase di non possesso Esatto Esatto È questo che volevo Volevo un attimino Puntualizzare Perché poi non mi piace Andare a cercare Diciamo il problema Ma mi piace sottolineare Il fatto che Tutta la squadra Sta lavorando Verso una direzione Che secondo me È una direzione importante È una direzione Che ci può dare Qualcosa in più Ed è una direzione Sicuramente giusta Che dovremo cavalcare Da qui Alle ultime nove partite Che mancano Alla fine del campionato È mancato il gol Nelle ultime due partite È mancato qualche gol Complessivamente Nell'arco del campionato Però dal punto di vista personale Battisti può essere soddisfatto Sette centri Non sono poco Sì sì Da quel lato lì Diciamo Sono soddisfatto Alla fine è una stagione Che per me Vuol dire tanto Anche dal punto di vista personale Dopo alcuni anni Poi racconteremo La tua vicenda Che è abbastanza Poco fortunato Interessante Tra virgolette Sì da quel lato lì Ho detto Sono soddisfatto Ma L'obiettivo personale Passa sempre il secondo piano Rispetto all'obiettivo di squadra Quindi Sono contento Se vinciamo Se faccio gol io Se fa gol Un mio compagno Va benissimo lo stesso Quindi Questo Difesa Dicevamo Estremamente solida Ma Il fatto che il Fossombroni Subisca pochi gol È riconducibile Come in occasione Della gara Con la Zurracolli Al fatto che conceda Molto poco Alla squadra avversaria Zurracolli Che ha avuto una sola opportunità Da rete Su un disimpegno errato Sì Diciamo che Questo è un trend Che ci portiamo dietro Da un po' di tempo Perché anche l'anno scorso Abbiamo chiuso Con la miglior difesa Del campionato E quest'anno Lo stesso Questo ovviamente Ci fa Enormemente piacere Però rispecchia Sì Quello che Che la partita In questo momento Che il campionato E la partita di domenica Ha detto Che cerchiamo Di concedere Veramente poco E cerchiamo Di condurre La partita Per cercare di riuscire A far gol Che squadra è questo Fossombrone E soprattutto Quali sono le linee guida Che avete seguito Nel costruirla Allora C'è da dire innanzitutto Che è una squadra Costruita con Ragazzi Sostanzialmente Del posto E i giovani Cioè i fuori quota Sono Provengono dal Settore giovanile In questi Quattro anni Dove Dove sono arrivato io Insieme al mister Fucili Abbiamo cercato Di aggiustare In alcune zone Del campo Con giocatori E caratteristiche Che ci sembravano opportune Quali sono realisticamente Gli obiettivi Che vi siete posti all'inizio E se siete in linea Con questi obiettivi Ma gli obiettivi Che ci siamo posti Sono quelli di Migliorare Partita per partita E Credo che ci stiamo Riuscendo Molti mi fanno Questa domanda Però rispondo Sempre allo stesso modo Io non penso A domenica Ma penso All'allenamento Di domani E cerco Di prepararlo Nel modo migliore E di far sì Che i ragazzi Possano lavorare Nel miglior modo possibile Ecco La società però Cosa vi ha chiesto? Ma la società Ci ha chiesto Di Di esprimere Di far esprimere Al massimo I giocatori Che ci hanno Che ci hanno messo Che ci hanno messo A disposizione È normale Che essendo A nove partite Dalla fine del campionato A un punto Dal secondo posto E a sei Dal primo Dove si devono giocare Tutti quelli che sono Gli scontri diretti Cerchiamo di Almeno sui play-off Insomma ci fate conto Cerchiamo di fare Cerchiamo di fare Di fare Di fare il meglio Ripeto Personalmente Faccio Faccio pochi conti E penso a quello Che devo fare E che devo preparare Domani per i ragazzi Ecco Da dentro Che squadra hai Battisti? Allora Siamo una squadra Sempre più consapevoli Dei nostri valori Questo bisogna riconoscerlo Dopo l'arrivo Anche Di Domenico Germinale L'attaccante Che ha passato Categorie Diciamo Superiori E che abbiamo visto Anche delle immagini Riesce ancora A farsi largo Esatto Ci ha fatto capire Veramente il nostro valore Avendo visto Comunque E vissuto E giocato con compagni Di categoria superiore Ci ha detto Che comunque Il nostro valore È un valore importante Quindi Sapevamo già Di poter far bene Sappiamo di poter fare Ancora meglio Quindi Bisogna continuare Ecco Concentrarci sugli allenamenti Di tutte le settimane Per poi Fare il risultato La domenica Che alla fine È quello che interessa di più E a proposito Di risultati Andiamo A dare uno sguardo A quelli Che Si sono registrati Nell'ultimo turno Oltre ovviamente Allo 0-0 Del Fossombrone Con l'Azzurra Colli Fa spicco E successo peraltro Abbastanza scontato Direi Dell'Atletico Ascoli Sul campo del Porto Sant'Elpidio Che fa una lino di coda Un successo che rilancia Appunto La capolista Mentre per quello Che riguarda Le parti alte Della classifica Da segnalare Anche Credo Il successo Della San Giustese Sul campo Dell'Atletico Gallo Urbino sconfitto Sul campo di Unaiesina Che sta tornando In sella Prepotentemente A questo Campionato Vediamo Visto che ci siamo Anche La classifica Con l'Atletico Ascoli Che conserva Anzi aumenta Il proprio vantaggio Nei confronti Dell'Azzurra Colli Fossombrone A meno 6 Sulla stessa linea Del Montefano E appunto Risale la corrente Laiesina Anche l'Atletico Gallo Comunque Rimane Nei pressi L'Urbino Ha perso Qualche colpo Nelle ultime domeniche Ma la situazione Resta Credo Sotto controllo Battisti È una classifica Che sta In qualche modo Riflettendo I valori Che le diverse squadre Hanno espresso Sì credo Che la classifica Rispecchia pieno Un po' Questo campionato Un campionato Molto equilibrato Squadre molto Molto preparate Allenatori preparati Diciamo Che in questi ultimi anni Si è un pochino Livellato Il campionato Prima magari Potevano esserci squadre Che potevano ammazzare Il campionato E squadre Che facevano più fatica Ora abbiamo visto Che Una decina di punti Ci sono Una decina di squadre Quindi Fa capire Il valore Di tutte le squadre E del campionato Che stiamo affrontando Parlando con Cecarini Allenatore dell'Urbino Abbiamo colto Questo aspetto Un campionato di eccellenza Lui sosteneva Che si è molto Venuto negli ultimi anni Ci sono molte squadre Che propongono calcio E molte meno squadre Che invece Così per così dire Sono rinunciatari È anche La tua riflessione? Sì Assolutamente sì Sono Sono d'accordo su questo E Per quanto mi riguarda Lo testimonia il fatto Che Le ultime squadre Che hanno vinto Il campionato di eccellenza Stanno facendo bene In Serie D E mi riferisco Al Porto d'Ascoli E la Vigor Senigaglia E sono squadre Che Rispetto agli anni In eccellenza Hanno cambiato Veramente poco Ho avuto l'occasione Sabato In questo caso Naturalmente vale Anche L'aspetto Che cambiando poco Esatto Grosso modo L'anno dopo Difficilmente si sbaglia Sì Però saltando Dall'eccellenza Alla Serie D Non è poi così scontato Ecco E mi è capitato Di vedere Il Porto d'Ascoli Con il Fano La settimana scorsa E guardando La formazione Ho notato che Otto Undicesimi Della squadra Con cui abbiamo Perso la finale Per vincere il campionato Erano Erano gli stessi Quindi a testimonianza Che comunque sia Il livello Si è alzato notevolmente Battisti Uomo gol di questo Fossombrone Dando un'occhiata Invece alla concorrenza Gli altri uomini Gol Delle altre squadre Chi al di là Del numero dei gol Che ha messo a segno Secondo te È un lusso Per questa categoria Sicuramente mi viene da pensare L'attaccante Dell'Atletico Ascoli Matteo Minnozzi Che lo conosco Lui L'ho conosciuto Anche tramite Amici Come persona E come ragazzo So che In campo Ha dei valori Importanti Ma oltre lui Ce ne sono tanti Mi viene da pensare Adesso anche L'ultimo arrivato A dicembre In casa Iesina Lion Giovannini Che ha fatto Tanti gol Diciamo Nei primi mesi Nel campionato In cui In cui giocava E sta facendo molto bene Anche adesso Ce ne sono Ce ne sono tanti Lo stesso Come ho detto Prima Germinale Arrivato da noi Dopo diversi anni Di professionismo Quindi Ci sono tanti giocatori In questo campionato Che meriterebbero Anche categorie superiori Facciamo Una specie di pagelle Anche delle altre pesaresi Come si stanno comportando Rispettivamente L'Atletico Gallo E L'Urbino Ma credo che Stiano facendo Veramente Veramente bene Perché Il Gallo È ormai Come noi Una realtà consolidata Del campionato Di eccellenza E L'Urbino Diciamo Ha fatto Secondo me Tesoro Di quelli che Potevano essere Gli errori Che ha fatto L'anno scorso Ad inizio d'anno E non li ha poi Ripetuti E si sta Anche lei Consolidando Tra le prime Tra le prime Della categoria Insomma Questo atletico Ascoli capolista Ha qualcosa Effettivamente In più Rispetto alle altre Oppure Semplicemente Ha cavalcato l'onda Fino a questo momento Ma rispetto alle altre Dipende Cioè dipende Che altri si guardi Rispetto a noi Secondo me no Anche perché L'avete battuta Molto recentemente Ma a parte quello Diciamo anche Dal punto di vista Del gioco Entrambe le volte Che ci abbiamo Giocato contro Abbiamo visto Una squadra Che cerca di servire Prima possibile I suoi attaccanti Che sono Diciamo I suoi punti Forte E Come gioco Diciamo Lascia un po' Desiderare Noi invece Siamo stati bravi Anche quando ci abbiamo Giocato contro Appunto Una delle ultime partite A A tenere il possesso Palla A far nostra La partita E Sì Sicuramente Una squadra Fortissima Per il campionato Però come Come lei Ce ne sono Tante altre Appunto come noi E allora Facciamo presto A dire Quale è la squadra Che ti ha più Impressionato Dal punto di vista Del gioco Magari possiamo Vedere anche Delle istantanee Di questa stagione Del Fossombrone Allora Dal punto di vista Del gioco A me mi ha impressionato Tanto nel giorno Dell'andata L'Urbino Che ci ha messo Molto sotto E Sempre stata Diciamo Organizzata Durante tutti i 90 minuti Della partita Poi Mi viene da pensare Anche al Gallo Secondo me Una squadra Ormai con L'allenatore Mariotti Che conosce a memoria Diciamo I suoi giocatori Ne ha persi tanti Quest'estate Nel mercato estivo Però E' una squadra Che come ogni anno Diciamo Mostra i propri valori Ma ce ne sono Ce ne sono tante Adesso non Non vorrei Rimarcarne altre Il calendario Santini Vi porta Domenica prossima Sul campo del Chiesa Nuova Che è una squadra Di quelle che ha bisogno Di punti E' questo il problema Principale di questa partita O ce ne sono altre No I problemi Domenica saranno Saranno tanti Saranno quelli di Di cercare Di riuscire a far gol Contro una squadra Che ovviamente Ha bisogno di punti Quindi cercherà Di salvarsi E quindi cercherà Di Chiuderci tutti gli spazi E dovremo Cercare di Con il nostro gioco Di riuscire a A sfondare Trovare il prima possibile La via del gol Come sta seguendo Fossombrone Questa squadra Fossombrone Che ricordiamo Viene da un'epoca Quella segnata da Bickenbergs In cui ha frequentato Palcoscenici più importanti Come la Serie D E anche ai massimi livelli Ma c'è una C'è una tifoseria Che ci segue Tutte le domeniche Che colgo l'occasione Per salutare Si chiama Botti Club E come si vede Anche dalle immagini Tutte le domeniche In tutti i campi Ci segue E anche la domenica Non manca il supporto Anche della gente Del posto Dentro questo Fossombrone C'è la storia Di Tommaso Battisti Che è una storia Particolare Perché Tu arrivi dal Vivaio dell'Alma Di Juventus Fano Con cui tra l'altro Hai centrato il titolo Di vice campione d'Italia Allievi Se non ricordo male Esatto Poi hai vissuto Diverse esperienze Ma soprattutto Un paio Particolarmente negative Molto recenti Prima una patologia cardiaca Che ti ha tolto di scena Praticamente per una stagione E poi nel momento In cui ti sei riaffacciato E ti sei riproposto In Serie D Con il Porto d'Ascol Infortunio al ginocchio Allora Come si sopravvive A queste disavventure? No Diciamo che La sopravvivenza Viene dal fatto Della mia Voglia La mia determinazione Nel voler continuare A fare questo Questo sport Che Mi toglie Mi dà tante soddisfazioni E Sono stati anni Sicuramente Molto tosti Soprattutto Diciamo Quando mi è stata Negata la possibilità Di continuare a giocare a calcio Perché Si parlava di Non solo giocare a calcio Ma fare qualsiasi Altro tipo di Attività fisica E per uno come me Che comunque Sono cresciuto Facendo sport Da quando sono piccolo Voleva significare tanto E soprattutto Alla tua età Alla mia età Al di là dell'attività Che svolgevi Alla fine Alla fine per fortuna Si è visto Che si Questa Miocardiopatia È presente Però In maniera molto lieve Quindi non è patologica E quindi posso Devo tenerla sotto controllo Però posso continuare A giocare Però ti riproponi E ti fai male al ginocchio Oltretutto In una realtà Come il Porto d'Ascoli Che in serie D Appunto Come abbiamo ricordato Si sta facendo valere Sì sì Anche quello è stata Una bella Una bella batosta Diciamo Perché Mi trovo benissimo Con la squadra Mi trovo benissimo Diciamo Anche con i compagni Che tuttora mi sento Con l'allenatore E Mi sono stati tutti vicino Perché sapevano Comunque la mia storia Sapevano che venivano Da un anno Di Diciamo difficile Però Come L'anno prima Ne sono uscito Secondo me Ancora più forte Perché quando si escono Si esce da queste Da queste situazioni Si capisce veramente Il valore Del poter Fare quello Che ci piace Quindi Ringrazio Diciamo Ogni giorno Quando posso tornare A giocare A fare quello Che più mi piace E già questa è una gran cosa Questa è la stagione Per te del rilancio Ma ti poni L'obiettivo Di tornare Ad una categoria Superiore Rispetto all'eccellenza Allora Con il Fossombrone Certo Allora Se viene col Fossombrone Benissimo Sono contentissimo Infatti a Fossombrone Mi trovo Veramente bene Nel quarto anno Che sono qui Non è di fila Diciamo Ci sono state Delle parentesi intermedie Ma Sanno quanto Mi sento a casa E Sì Diciamo Gli obiettivi personali Logicamente ci sono Salire di categoria Il più possibile E uno Di questi E appunto Se viene col Fossombrone Soprattutto quest'anno Sono il più contento Di tutti Grazie a Tommaso Battisti Attaccante del Fossombrone Grazie a Giovanni Santini Vice allenatore Del Fossombrone Noi ci rivediamo Tra qualche istante Con Sportissimo Ci siamo dati Il compito Di aprire delle finestre Anche su sport Meno popolari Ora però bisogna anche Intendersi sul termine Popolare Perché Nel caso delle bocce Si tratta di uno sport Popolarissimo Che magari fatica A guadagnarsi Le prime pagine Dei giornali E di bocce Parleremo questa sera Con il presidente Della bocciofilia San Cristoforo Paolo Marchionni Buonasera e benvenuto Buonasera Buonasera a lei E con il direttore tecnico Della bocciofilia San Cristoforo Giovanni Iacucci Buonasera e benvenuto Anche a lui Buonasera È una storia lunga Quella della bocciofilia San Cristoforo Parliamo di più di 50 anni Come è nato E come si è sviluppata La storia di questa bocciofila Dunque La bocciofila è nata Nel 1969 Quindi 54 anni fa Più o meno È nata per La passione Di alcuni Soci Del circolo Acli Di San Cristoforo Che erano amanti Delle bocce E Con Hanno spinto La loro La loro parroco Adesso non ricordo bene Il nome Lì Che era proprietario Di un certo Pezzamento di terreno E di un E di uno stabile A costruire Queste tre corsie Di campo bocce E addirittura Chiuderlo Cioè renderlo Utilizzabile Anche Nei periodi Invernali Con tanto Di riscaldamento E via dicendo Ed è nata Una di quelle Culle storiche Del movimento Bocciofilo locale In cui Giovanni Iacucci Ha messo subito Radici Mi pare Sì Diciamo che Io sono nato Bocisticamente Nella San Cristoforo Perché La San Cristoforo È cresciuta Con Grande Entusiasmo E quindi Accoglieva anche Giovani Ragazzi Che prendevano spunto E cominciavano a giocare Alle voce Io sono lì Da Ho preso il cartellino Il primo cartellino A otto anni E adesso Ne ho 48 E quindi 40 anni Che gioco a bocce Non sono sempre stato A San Cristoforo Ma Sono nato lì E appena Diciamo Sono potuto tornare Per motivi Che Per rallentare Un po' L'attività agonistica Sono tornato Non gioca più però Soltanto a bocce Iacucci Ma adesso ha delle responsabilità Di carattere gestionale Si tratta di coordinare Un'attività Dai numeri Anche molto consistente Sì Diciamo che Adesso La San Cristoforo Sta svolgendo Un'attività Molto bella E molto impegnativa Molto impegnativa Perché si è cercato Di dare sbocco Anche a settori Dove prima Magari Non erano presi In considerazione Diciamo che Si è svolta Un'attività Si sta svolgendo Un'attività Molto bella Nell'attività giovanile Nell'attività Dei diversamente abili Abbiamo iniziato L'attività femminile E poi L'attività agonistica Quest'anno Dall'anno scorso Con una squadra di A Molto competitiva Quindi Ci sono parecchie cose Parecchie carne Al fuoco E L'impegno c'è E Bisogna darsi da fare Ma L'importante È che c'è sempre Entusiasmo E passione Ci addentreremo Nei particolari Intanto parliamo Di quanti tesserati La bocciofila San Cristoforo Annovera E qual è la misura Della partecipazione Di questi tesserati In misura concreta Dunque Il circolo San Cristoforo Annovera Circa 170 180 soci Però Non tutti Sono Dediti Al gioco Delle bocce Quanto meno Alla competizione Boccistica Ma Ne abbiamo Una Cominciando Da quelli Della tenera età Ai più grandi Circa 90 Tesserati Che Non dico Tutte le domeniche Ma abbastanza Frequentemente Calcano i giochi Di bocce Sulle gare Sia nazionali Regionali E anche provinciali Chi non ha giocato A bocce Nella sua vita Però come si fa A portare Al gioco delle bocce Un bambino Una bambina Che magari Possono essere attratti Maggiormente Da discipline Insomma Più In voga O comunque più diffuse Tra i loro coetanei Allora Diciamo che Non è facile Portare Un ragazzino In un bocciodro Però Prima Prima era Molto No molto semplice Era più facile Perché il genitore Giocava Il ragazzino Andava dietro il genitore Non c'erano grosse Attrattive O grosse distrazioni Sì c'era sempre Il calcio Però Voglio dire Il ragazzino Comunque sia Cominciava a giocare a bocce Adesso È molto più difficile Adesso si va Direttamente Nelle scuole Si fa Un progetto La federazione Ha installato un progetto Che si chiama Bocciando si impara Noi lo stiamo attuando Con la scuola Nuti E Praticamente Si fa un mese Di lezione Nelle scuole A orario scolastico E poi dopo Si fa un corso Nel bocciodromo Per chi vuole proseguire Quello che è stato iniziato A scuola Una delle prerogative Del gioco delle bocce È che è un gioco Per tutte le età E questo è un vantaggio Marchio a me Sì Esatto È quello che Praticamente Mi ha attirato di più Ad entrare in questo mondo Perché Oltre Che A fare Sport Sembrerebbe facile Dire il gioco delle bocce Ma se non ti alleni E se non ti applichi Come in tutti gli altri sport Non vinci Cioè non fai Non fai risultato Per cui Questa nostra disciplina Prendi il ragazzo Di 7-8 anni E te lo porta Fino all'età Degli 80 E finché Riesci a stare in piedi Tant'è che E noi abbiamo Dei giocatori Dei giocatori Abbastanza attempati Che anche domenica scorsa Hanno vinto un girone 81 anni Frattini In una competizione regionale Ha vinto Il suo girone Quindi È una disciplina Che Svolge Nella società Una funzione sociale Importantissima Insomma Ecco perché Toglie Dal ragazzino Che potrebbe essere Deviato Per tanti Per tanti motivi All'anziano Che magari Non sa Dove passare Il suo tempo libero Ecco E lo passa Tranquillamente Al bocciotro C'è un'attività di base Ad ampio spettro C'è però anche Un'attività Agonistica Allora Vogliamo Mettere in vetrina I gioielli Della bocciofila San Cristoforo Quelli che si stanno Distinguendo A livello giovanile Ma anche a livello assoluto In questa fase Della loro attività Allora Noi a San Cristoforo Come dicevo prima Sta facendo Un'importante Attività giovanile Attività giovanile Adesso Momentaneamente Abbiamo 15 ragazzi Tesserati Tra gli under Tra i 12 E i 18 anni Questi ragazzi Fanno gare nazionali Fanno campionati In tutta Italia Per rendere l'idea Ci sono gare Da Lecce Fino a Verbano Al Lago Maggiore Quindi È una fonte Anche di divertimento E Si stanno distinguendo Sia per i risultati Sia per l'ottimo comportamento Ci sono dei ragazzi Che hanno vinto Gare importanti Nelle under 15 Il nome è Riccardo Giacomoni Un bravissimo ragazzo Che sta facendo Molto bene E promette Altrettanto Negli under 18 Il nome che Spicca Diciamo Quello di Riccardo Campanelli Adesso Lui non è più Nelle giovanili È entrato Nel Nel Nei Signores Nella categoria A Ma Nelle categorie giovanili Ha vinto diverse gare E si è distinto In Quasi tutte le competizioni La chicca Del Settore giovanile È stato il campionato Nazionale Per società Vinto a Roma Nel 2020 Questo è stato Un premio Per tutti gli sforzi Fatti Soprattutto dai ragazzi E dalla società Che ci ha visto Primeggiare A Roma In maniera Veramente fantastica Uno sforzo organizzativo Quindi Importante Un'attività anche Di preparazione All'altezza Delle competizioni Che si devono affrontare Ma anche Credo Un impegno Alla fine Economico Di una certa portata Come Ne venite a capo Marchionni Lavorando Noi abbiamo La fortuna Io Come presidente In prima persona Ho la fortuna Di avere un gruppo Dirigente Che è veramente Incomiabile Sotto tutti gli aspetti Bravi ragazzi Lavoratori Capaci Di organizzare Capaci Di farsi Notare Anche Da Quei pochi Contribuenti Che possono Possono Veramente Darci Una mano Una mano particolare La dobbiamo Anche Alla Nostra Istituzione Comune di Fano Che ci sta molto Molto vicini Perché Vede Il lavoro Che stiamo facendo Nel sociale Per cui Sì I bilanzi Sono difficili Da gestire Ma Specialmente In questi periodi Dopo la pandemia Con i rincari Energetici E via dicendo Insomma Mettono Abbastanza in difficoltà Ma Bene male Ce la stiamo Cavando bene La funzione sociale Delle bocce È evidente Storica direi Però c'è una Funzione supplementare Dal punto di vista sociale Cui avete già accennato E che state sviluppando Con particolare Determinazione D'energia Quella sul versante Della disabilità Come l'avete impostata E come la state sviluppando Iacucci Allora Sulla disabilità La società Ci sta impegnando Tantissimo Ci sono Sei ragazzi Che anche Loro Fanno delle gare A livello provinciale Regionale E nazionale Si stanno distinguendo In maniera Molto significativa Quello che devo dire Insegnano tanto Anche a noi A livello sportivo Si stanno ottenendo Grandissimi risultati Perché A pensare Che nelle ultime Tradizioni Dei campionati italiani Che si sono svolti Dal 2019 E il 2022 Perché nel 2020 Non si sono disputati Per la pandemia Abbiamo portato a casa Nove medaglie Di cui Cinque ori Due argenti E due bronzi E nell'ultimo anno È stato vinto La coppia Da C21 Con Lorenzo Bronzini Jacopo Primavera E Jacopo Primavera Ha vinto anche Il titolo individuale Quest'ultimo Con questi risultati È stato permesso Di vincere È stato insegnato Come Nel FIB Award Ovvero L'Oscar delle bocce Come miglior atleta Paralimpico Dell'anno Questa serie Di risultati prestigiosi Si lega All'impegno E all'attenzione Che dedicate Come bocciovili A San Cristoforo Oppure ci sono Anche delle qualità Spiccate Da parte Di questi ragazzi Relativamente Al gioco delle bocce Allora L'impegno dei soci È in dubbio Ma Meno Importantissime Sono anche Le qualità Dei ragazzi Perché Per l'impegno Che mettono Per la dedizione La voglia Di Comunque sia Migliorarsi E Per la voglia Di mettersi in gioco Veramente Dà stimolo a noi Nell'aiutarli I risultati Sono il frutto Di tutte queste cose Tutto continua A generarsi All'interno Di un impianto storico Ne abbiamo ricostruito L'origine Come quello Di San Cristoforo Impianto che Ha i suoi anni E nel quale Comunque Riuscite Mi pare Con ottimi risultati Appunto A continuare A sviluppare Quest'attività Così Marchionni Sì Veramente Avremmo bisogno Di un'ulteriore corsia Perché ne abbiamo Soltanto tre Insomma Sono importanti Però con la quarta Riusciremmo a fare Molto Molto di più Che dire Volevo Riprendere un attimino Il discorso Sul disabile Se mi consente Prego Io ho notato Una cosa Che questi ragazzi Hanno Molto da insegnarci A noi Che siamo abili Il loro comportamento È qualcosa Di eccezionale Il loro attaccamento Ai ragazzi Ai nostri soci Che li accudiscono Che gli insegnano E gli fanno È un qualche cosa Di straordinario Vederlo Vederlo crescere Vederlo vivere Perché sono veramente Affezionati In modo Eccezionale E questo credo Ripaghi anche I vostri sport Ripaghi i nostri sport Lo diceva bene Prima Iacucci Che Vediamo Noi Li vediamo Crescere Questi ragazzi Che erano Incapaci Nei movimenti Perché purtroppo La disabilità Non è poca cosa Anche nei movimenti Ora stanno crescendo Cioè Abbiamo tre Di questi ragazzi Che bocciano Come un normo dotato È una cosa Eccezionale Insomma Ecco Il lavoro Che stiamo svolgendo E così Vorrei Ricordare Un nostro socio Che purtroppo Non Non può più Per un fatto Di salute Essere Presente In questa attività Specialmente Sui normi dotati Romolo Giovannini Che è stato Un po' L'iniziatore Insieme Ovviamente Alla società Nel seguire Questi giovani E loro Gli sono ancora Tutti riconoscenti Per il lavoro Che ho svolto E volevo salutarlo Qui direttamente Da Fanotilu Perché sono certo Che lui Questa sera Ci vedrà Allarghiamo il discorso Al movimento In generale Come sta Questo movimento Soprattutto In questo territorio Che alle bocce È profondamente Storicamente legato Diciamo che Diciamo che Diciamo che Diciamo che Diciamo che le bocce A Fanotilu Ma nelle marche In genere È un fuoco Sempre acceso È un fuoco Sempre acceso Che va Va custodito Va Gli va dato Attenzione Cioè Le bocce Momentaneamente Momentaneamente Diciamo che Hanno un calo Perché non c'è stato L'auspicato Cambio generazionale Qualche anno fa Adesso si cerca Di recuperare La volontà C'è Forse non ci sono più Le persone Siamo un po' carenti Da quel punto di vista Però C'è la volontà Di poter fare Qualcosa In più Quindi Come la società San Cristoforo Che si impegna E trova Gente volontaria Che dà una mano Anche in giro Per Per l'Italia Diciamo Ci sono società Che Che lo stesso Cercano di portare Avanti Questo movimento Che Merita È vivo E può dare E può dare Veramente Tanto Adesso ci sono Ci sono gare Ci sono gare Gare nazionali Gare belle Gare prestigiose Magari prima Queste gare Venivano riempite Con 200 giocatori Adesso forse Ci sono 60 60 80 100 A massimo Però Non è Non è Tutto Non è tutto Perso Tutto Tutto Negativo Come si può pensare Le bocce ci sono Le bocce Bisogna crederci Le bocce Ne verranno fuori Quali sono Marchioni i rapporti Con le altre realtà Di questo territorio Che agiscono Appunto Su questo terreno Quello delle bocce Sì Noi abbiamo collegamenti Con tutte le società D'Italia Diciamo Perché Siamo impegnati Anche a livello A livello nazionale E quindi I rapporti Sono ottimali In modo particolare Diciamo Anche Con I I fanesi Della Della combattente Con Tutti I bocciodromi Della provincia Diciamo Un rapporto Amichevole È un rapporto Di collaborazione Continua Iacucci Gli obiettivi Per questa stagione Quali sono Le priorità Allora Noi Veniamo da Una stagione Molto positiva Il 2022 È stato Veramente Pieno Di risultati Si aspettavano Dei buoni risultati Ma non Non così Grandi Noi abbiamo vinto La fase provinciale Del campionato nazionale Parlo della squadra Di A E siamo arrivati Terzi Alle fasi nazionali A Campobasso Questo ci ha permesso Di qualificarci Per le finali Della Coppa Italia Per club A Possaccio E lì siamo arrivati Quinti Un quinto posto Che ci dà Un grande Un grande Onore Un grande Un grande Piacere Perché ci siamo Confrontati Con le squadre Più forti D'Italia Quelle che gareggiano Nei campionati Maggiori Praticamente L'Inter Terminano Gli Juve E il Napoli Delle voce Arrivare Quinti Assoluti Per noi È una grande Soddisfazione Questo Per una società Piccola Che Anne La Rosa Due ragazzi Ventenni Il già citato Riccardo Campanelli Fanese Il reggiano Alex Incerti Un altro giovane Di grande successo Di grandi speranze È già nel Mirino Azzurro Inoltre ci sono Giocatori esperti E la chicca È il fuoriclasse Fanese Gianluca Emanuelli Che dopo anni Di militanza In varie società Nelle migliori società Italiane Ha sposato Il nostro progetto Ha sposato Il nostro progetto Avvicinandosi Vicino a casa E mettendosi In gioco Il nostro progetto Prevede di mettere Sempre in risalto I giovani Per dare a loro La vetrina Per un futuro Boccistico migliore Noi ci mettiamo Tutta l'esperienza E la voglia Di far bene Il resto Il resto Il conto Diciamo Ce lo danno I risultati L'anno scorso È andato benissimo Quest'anno Proviamo a fare Stiamo facendo Un campionato di B Che è il terzo A livello nazionale Con la stessa squadra L'obiettivo Logicamente È andare in A2 Non dovessimo Farcela Non succede niente L'importante È affrontare Sempre le cose Con lo spirito giusto Questo per quanto riguarda L'A Per i ragazzi È sempre il compito Di fare Di far bene Come stanno facendo Sia a livello di gare Sia a livello di campionati Faremo per tutte le categorie Un campionato Sia quello femminile Sia quello giovanile Sia quello dei disabili Sia quello delle squadre di A Quindi siamo In competizione Dappertutto L'obiettivo è far bene E crederci Siamo arrivati alla fine Di questa puntata Di Sportissimo Grazie al presidente Della Vociofilia San Cristoforo Paolo Marchioni Grazie al direttore Sportivo Della Vociofilia San Cristoforo Giovanni Iacucci Grazie a voi Per averci ancora una volta seguito E contiamo che lo facciate Anche la settimana prossima Della Vociofilia San Cristoforo